Nell'ambito della dodicesima settimana dei beni culturali, oggi la presentazione e l'invito alla lettura? È naturalmente un invito ma anche celebrare la fine della settimana della cultura. Speriamo che questa cultura non finisca mai e che ci arricchisca sempre di più. È un modo nuovo di vivere gli spazi pubblici destinando spazi alla cultura e abbiamo scelto la Villetta Romano perché Rosetta Romano è stata un personaggio illustre della cultura agrigentina. Quindi in questo spazio noi abbiamo destinato questa iniziativa che consentirà agli agrigentini di portare dei libri e senza alcun costo prenderne un altro. In questo modo si potrà magari prendere un libro che non abbiamo comprato o non abbiamo avuto la possibilità di comprare. Naturalmente saranno libri che ognuno di noi metterà a disposizione degli altri. Contiamo che questa iniziativa non abbia fine ma che venga ripetuta almeno una volta al mese per tutta la stagione estiva.